Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Mauro Caimi qui con voi. Iniziamo la settimana con l'analisi ciclica grafica di Bitcoin dopo questi buoni rialzi che ci sono stati nel mercato. Buoni rialzi che hanno portato il mercato delle criptovalute in generale a dare un'ottima reazione, ma soprattutto su livelli di prezzo che non vedevamo già da un po' di tempo. A parte Bitcoin mi riferisco chiaramente a Ethereum, ragazzi, perché Ethereum ha fatto finalmente un break di una delle resistenze importanti a 160 dollari. Abbiamo visto anche Binance reagire in maniera estremamente importante, poi tantissime altcoin hanno fatto numeri stellari, e mi riferisco a Dash o comunque anche Bitcoin SV, ma lì insomma si sa ragazzi che viene molto fuori da manipolazioni di un certo tipo. Oggi facciamo il punto della situazione come facciamo ogni lunedì per capire due cose in particolar modo in questo video. Una, se questa fase di rialzo può perdurare anche nelle prossime settimane. Due, a che punto di vista ciclico siamo. E se questa fase di ribasso che è iniziata ieri più o meno, ma chiamare un ribasso ragazzi al momento secondo me è prematuro, più che altro è una fase di correzione naturale di un trend estremamente forte, se questa fase di correzione può essere già terminata, oggi guardiamo questi due punti. E sui grafici guarderemo Bitcoin, Binance, Ethereum e la Dominance Bitcoin per vedere se effettivamente questo basso delle altcoin ha modificato qualcosa. Prima di passare sui grafici vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciarmi un bel mi piace su questo video di analisi. E poi una cosa ve la chiedo ragazzi, che sono anche estremamente curioso. Cosa avete fatto questa settimana con le altcoin? Quale altcoin avete preso? Avete fatto il trading sulle altcoin che hanno fatto questi boom del 100%? Fatevi sapere un po' quello che avete combinato, confrontiamoci sempre nei commenti del video. Davanti a me Bitcoin, il nostro solito grafico su TimeFrame Daily. Ragazzi, allora qui nell'RSI c'è poco da vedere, ci sta indicando già da un po' di tempo una divergenza rialzista. Rialzista è a metà, quindi significa che questo trend è sostenuto anche da un punto di vista di RSI, non c'è alcun ipercomprato, ma è anche vero che l'RSI come sua faccia della medaglia alternativa ci indica che appunto non c'è ipercomprato. Perciò il trend rialzista in questione non è fortissimo, è un buon trend rialzista, ma non è neanche un trend che manda l'RSI in ipercomprato. Quindi significa che ancora siamo in una fase di incertezza. Ma volevo prima farvi vedere l'analisi tecnica, quello che è relativa ai livelli che abbiamo raggiunto. Ve lo faccio vedere su due grafici che sono livelli estremamente importanti. Vi avevo già indicato nelle settimane precedenti nei miei video. Vi avevo indicato la resistenza 9000 come una resistenza importante e ha fermato questo rialzo. L'ha fermato diverse volte, giusto assolutamente, è una coincidenza della media mobile a 200 periodi sul time frame daily e della trend line discendente dai massimi di questo ciclo annuale, quindi da giugno del 2019. Ragazzi, difficilmente Bitcoin sarebbe riuscito a rompere questa resistenza al primo colpo. Anche perché siamo in fase di conclusione del ciclo mensile, ragazzi. E questa cosa ovviamente mette anche una fase di riposo al mercato, un po' di ansia, insomma, la vette. Nella settimana scorsa avevo fatto anche un video di approfondimento che ho pubblicato sul canale Telegram, un video di analisi tecnica per non lasciarvi spuri. Anche perché, insomma, ragazzi, non è facile, non voglio mettere troppi video di analisi sul canale YouTube, quindi spesso li pubblico anche sul canale Telegram, ma che è gratuito. E avevo accennato come io ero, diciamo, propenso per un trading range fra i 9.000 e gli 8.400 dollari. Essenzialmente il mercato lo sta facendo, vediamo se lo continuo per un altro paio di giorni, non sarebbe male perché si scarica un po' e prende, diciamo, più possibilità, prende più possibilità di avere stabilità di rialzo nel futuro. Per quanto riguarda, invece, un'altra cosa che volevo mostrarvi è il grafico di Natura Weekly. Questo è Bitstamp, ragazzi, niente di che, solo che mi serve il grafico pulito. Allora, il rialzo da un punto di vista settimanale si è bloccato perfettamente sulla trendline del canale di regressione. Ve lo faccio vedere. Andiamo a disegnare un canale di regressione su Bitcoin e vedete che, insomma, è palese dove si è fermato questo rialzo sul grafico settimanale. Cioè, ha impattato su quello che è il canale di regressione che ha più volte bloccato il rialzo del Bitcoin. Lo ha fatto qui, ragazzi, lo ha fatto qui e lo ha rifatto qui per la terza volta perché questo è un grafico settimanale, ha più valenza statistica. Questo ci sta a indicare in maniera molto chiara che questo è un livello chiave. Un livello chiave da un punto di vista di trendline. Sono due i livelli chiave settimanale. Uno è la rottura di questa trendline, quindi superare i 9.000 in slancio. E l'altro livello è questo, ragazzi, questo qui, che sta a 10.000 e 3, se non erro. Insomma, qui su 10.000 e 3,50 su Bitstamp, mentre su Bitfinex 10.000 e 4, insomma, ragazzi, 10.500 dollari è l'altro livello chiave. Questo dal punto di vista di analisi tecnica. Andiamo a vedere invece l'analisi ciclica, velocemente. L'analisi ciclica, ragazzi, aspettava la chiusura del ciclo mensile. Intanto, una cosa che faccio in questo video, tolgo le alert by Aria. Su Bitcoin non l'ha raggiunta, ragazzi. Magari, se questo ciclo tenderà di nuovo a essere ribassista, potrebbe arrivare. Io spero di no, chiaramente. Quindi, intanto, la togliamo. Comunque, poi, casomai, ve la rimetto. Mentre su Binance Ethereum sono state raggiunte alla perfezione. Lo vediamo tra poco. Allora, andiamo a vedere quando era la scadenza del ciclo mensile. Ragazzi, la scadenza del ciclo mensile da orologio svizzero era qui, la giornata del 19, quindi ieri, esattamente. E l'ha fatta alla perfezione perché ha fatto questo minimo. È andato a fare un minimo anche con la shadow, basta. Qui, andando a toccare i 8.450, va bene per un minimo ciclico, va bene per una chiusura ciclica di un mensile. Sì, sì, ragazzi, va bene. Certamente non è molto pronunciata, però assolutamente non è, diciamo, importantissimo. Soprattutto se questo mensile fa parte di un ciclo annuale nuovo che è appena iniziato. Da qui, sinceramente, vi dico in maniera molto chiara, ogni minimo per quanto riguarda Bitcoin è una possibile chiusura di un ciclo mensile. Perciò l'idea di fondo del trader dovrebbe essere quella di posizionarsi long su questo mercato che ha invertito il trend di breve. E su questo non ci sono dubbi, ragazzi, perché sta facendo minimi e massimi crescenti, vedete? Ok? Quindi in un'inversione di trend di breve, se volete posizionarvi da un punto di vista di trading, bisogna andare long su Bitcoin. Bitcoin quando darà segnali di ripartenza di nuovo ciclo mensile. Ho una view un po' particolare anche su questo ciclo mensile che potrebbe essere composto, quindi un ciclo mensile composto da due, ma lo vediamo nella prossima settimana. E quindi, insomma, potremmo trovarci di fronte a un massimo già realizzato per i prossimi due mesi. Lo andremo a vedere con calma questa cosa qui, però in linea di massima la mia idea a questo punto diventa posizionamento long per i mesi a venire. Perché? Perché è possibile che stia iniziando un nuovo ciclo annuale e questo mensile rialzista direbbe proprio questo, ragazzi. Poi i mercati di criptovalute vanno presi con le pinze, bisogna stare attenti, perciò andare a posizionarsi long senza che ci sia un segnale del mercato, sapete che io non lo faccio, molti amano comprare mentre i mercati crollano o comprare così senza randomico, però ragazzi io che insomma faccio trading da una vita ormai e so che i mercati riservano sempre brutte sorprese, tendo sempre a proteggermi e lo consiglio di fare anche voi, questo lo posso consigliare, perché proteggersi dai rischi o comunque valutare la situazione al complesso è sempre un ottimo investimento. Analisi ciclica ci dice che mensile o è stato chiuso ieri o dovrà essere chiuso tra poco, vediamo un po'. Posizionamento long alla ripartenza, lo sto anche gestendo questa cosa, abbiamo fatto un piccolo esperimento con l'Academy e vediamo cosa ne esce fuori per decidere anche come posizionarci tutti insieme, sono esperimenti di formazione questi facendo un mini portafoglio di 7 altcoin compreso bitcoin. Andiamo a vedere una cosa, altcoin è iniziata l'altseason, l'avevo già detto la scorsa settimana, ho fatto un video a riguardo dell'altseason, ragazzi indicando che ancora era prematuro dirlo, in effetti ragazzi non è cambiato niente quello che c'è stato, quello che è avvenuto questa settimana, questa candela rossa che vedete, quindi nonostante quei rialzi stellari delle criptovalute più piccoline, bitcoin con la sua capitalizzazione estremamente importante, non lascia fiato alla dominance e quindi indica che in pratica ragazzi è stato fatto, sì un minimo lo vedete qui, della dominance di bitcoin che è scesa al 66.33, ma poi ora siamo a 67, quindi sono movimenti di pochi centesimi di punto percentuale, non è cambiato niente, la nostra scadenza indica come aprile con questa fase di riflessione, la stessa identica a questa qui prima di un'eventuale ripartenza di bitcoin, si mangerà tutte le criptovalute bitcoin, ragazzi noi lo sappiamo, io spero di no perché un mercato posizionato su una sola altcoin non è corretto neanche dal punto di vista finanziario, quindi per la sua sopravvivenza dovrebbe avere delle alternative assolutamente importantissimo questa cosa, però dal grafico non si evince un passaggio in questo momento alle altcoin come investimento di lungo periodo, magari sì ragazzi all'interno del panorama delle altcoin ci sono state quelle che hanno fatto grandi rialzi stellari, insomma io stesso sono un trading system che lavora sulle altcoin di lungo periodo, ha fatto tutte le operazioni, ha preso il super rialzo di bsw però in linea di massima come investimenti di portafoglio di lungo periodo non mi sento di dirvi passate alle altcoin perché ancora vedete la dominance di bitcoin estremamente forte. Passiamo a vedere Ethereum, Ethereum finalmente dà un segnale, la rottura della resistenza numero 1, 160, importantissimo, poi dove va a impattare su dei livelli che sono estremamente importanti, anche lui alle prese con la chiusura del ciclo mensile, l'RSI ci chiama insomma un ipercomprato sentito in questo caso da Ethereum in maniera consistente, quindi insomma il segnale del riposo anche per qualche giorno c'è. Il primo livello di resistenza di Ethereum superata la resistenza 160 è questa qui, la media mobile a 200 periodi, la media mobile a 200 periodi che è questa linea che vedete colorata di arancione, è importantissimo in questo caso il fatto che Ethereum riesca a salirci sopra, non me lo aspettavo una forza così diciamo importante in questo ciclo per salire al di sopra della media a 200 periodi, ricordatevi sempre che la rottura di una media a 200 periodi non è un segnale di ingresso long ragazzi, perché significa che il mercato sta tendendo ad essere in trading range, quindi in questo momento Ethereum si sta spostando da un trend ribassista ad un trend in trading range ragazzi, non è un trend long ancora perché Ethereum è al di sotto di questa media mobile a 200 periodi, quindi non sta riprendendo un trend long al momento, sta facendo un'inversione del trend ribassista. L'ha fatta l'inversione? Ni, ni perché da un punto di vista di analisi tecnica ancora manca il rialzo al di sopra di questo livello, perché era l'ultimo ciclo, vedete, l'ultimo ciclo ribassista, ed è lontanissimo perché se andiamo a vedere cosa deve fare, insomma deve andare quassù ragazzi e neanche proprio sarebbe da manuale, da manuale sarebbe al di sopra di 230 ragazzi, quindi sono prezzi elevatissimi e sicuramente comprare al di sopra di 230 per quanto riguarda Ethereum sarebbe uno spreco, secondo me in attesa, quindi al momento anche questa criptovaluta per me entra nella buy, quando con una strategia che io ho ribattezzato buy the dip, una modifica di quella originale buy the dips, strategia che mi farà entrare anche su questa criptovaluta se vedrò dei segnali di inversione su time frame alla ripartenza di questo ciclo mensile, ciclo mensile su Ethereum è chiuso, non chiuso, ancora una volta, qui potrebbe essere stato chiuso nella giornata di ieri oppure ancora no, non ha segnali di ripartenza, quindi al momento io attenderei, i livelli di supporto in questo momento sono la vecchia resistenza 160 e poi questo canale discendente, quindi la parte bassa qui, ragazzi qui sotto che è 150-145, un po' bello pronunciato insomma, va bene? Alert buy aria ancora una volta la togliamo, perfettamente inquadrata da Ethereum è stato il minimo di Ethereum ragazzi, ok? Analisi tecnica come sempre se usata con grande criterio guardate che cosa fa, su tre altcoin che avevamo, su tre criptovalute che avevamo indicato la buy alert aria l'ha presa su due ragazzi, ha preso il minimo su due, ok? Importantissimo da valutare questo tipo di discorsi. Andiamo a vedere Binance, in definitiva chiudiamo il video, allora Binance che è un canale pronunciato, anche qui bellissimo, ancora una volta però Binance ragazzi è sotto la media mobile a 200 per ieri, questa volta in azzurrino, non è sopra il massimo a 21-22 che vedete è qui, quindi questo è il precedente ciclo, è vero che mi aveva dato i segnali, ve l'avevo anche parlato di rottura qui, mi ha toccato la buy alert aria, ancora una volta la togliamo qui, è identico ragazzi, non so se notate, proprio quasi simmetrico ad Ethereum, sembra un dipinto, ancora una volta RSI in ipercomprato, è identico ragazzi, identico ad Ethereum, se lo guardate bene vi rendete conto, guardate la struttura, sembra Ethereum 2.0. Andiamo a questo punto poi a vedere anche qui l'analisi ciclica, da punto di vista in analisi tecnica resistenze, scusate, sono 19 in questo momento, poi c'è la media mobile a 200 periodi, poi c'è questo livello di massimo a 22 dollari, ce ne sono parecchie di resistenze, io entrerò su Binance, voglio entrare, cercherò un modo anche qui alla ripartenza di questo ciclo mensile ragazzi, quindi attenderò una ripartenza di un ciclo mensile, con le mie varie strategie, poi entrerò long anche su questa altcoin, perché mi interessava già da tanto, sapete che io l'attendo da 6-7 mesi, da quando stava sui massimi non l'ho mai comprata, fino a quando non mi sta dando dei livelli, dei segnali di acquisto interessanti e dovrebbero essere quelli tra qualche giorno, dal prossimo mensile. Chiusura del mensile, ancora una volta, ho fatto ieri oppure in attesa tra un po'. Bene ragazzi, allora per oggi abbiamo visto tutto, per quanto riguarda i mercati delle che ci sono volute, un aggiornamento sul grafico, un aggiornamento ciclico. La fase di attesa assolutamente giusta, la fase di chiusura mensile attesa è giusta, adesso sta a Bitcoin e al criptomondo, dare un segnale di ripresa del trend, perché ancora non sono convinto se questo mensile ha dato il là, come diciamo noi musicisti, all'inizio di un nuovo ciclo annuale, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo. Io tenterò un ingresso, come vi ho detto, con questo progetto che stiamo iniziando ora nell'Academy, entreremo su 7 altcoin, compreso Bitcoin, faremo un portafoglio, studieremo la strategia, creeremo questo trading plan, sarà come fare un corso di trading operativo dal vivo con i mercati live, quindi una cosa interessantissima, sono molto contento di questo progetto, l'Academy lascia sempre spazio a fare cose strane ragazzi, per questo che mi piace molto, è un dispendioso, non ve lo nascondo a livello temporale per me, perché diciamo bisogna sempre riempire di contenuto, però è anche utilissima per tutti gli iscritti e soprattutto per chi vuole vedere le cose fatte dal vivo ragazzi, non dopo magari. Bene, io vi ringrazio, noi ci vediamo in settimana con i prossimi video, scrivetevi nei commenti quello che pensate su questa fase. Ciao a tutti!